look accattivante farotondo classicissimo ma con i led e strumentazione tft a colori la morini 6 e mezzo a tutte le carte regola per conquistare anche un pubblico di giovanissimi a livello tecnico questa moto condivide molto con la morini x cape 650 troviamo infatti lo stesso motore bicilindrico in linea quattro tempi da 649 centimetri cubi capace di erogare una potenza massima di 60 cavalli e un picco di coppia di 54 newton metri la velocità massima stimata di 175 chilometri allora ovviamente l'omologazione euro 5 a livello di telaio troviamo un traliccio in tubi di acciaio abbinato a un forcellone in alluminio le sospensioni sono forcella regolabile a steli rovesciati all'anteriore e mono ammortizzatore al posteriore freni brembo doppi anteriori da 298 millimetri con pinze flottanti a due pistoncini mentre al posteriore c'è un disco singolo da 250 millimetri con pinza sempre a due pistoncini l'abs bosch 9.1 è disattivabile il prezzo e la disponibilità non sono ancora stati dichiarati ma ci aspettiamo di vedere questo modello entro la seconda metà del 2022 le ruote sono da 18 pollici all'anteriore 17 al posteriore in lega per la versione più stradale con pneumatici dal tassello meno pronunciato mentre sono a raggi tubeless per quella che potremmo definire più scrambler che ammica al fuoristrada anche con un vezzoso parafango sotto il faro anteriore grazie a tutti